Durante gli scorsi giorni ho girato un video su TikTok di traffic Dentro un autogrill che si è perso E che utilizza il navigatore del telefono per uscire dall'autogrill Chiaramente in molti lo hanno preso in giro sotto quel filmato Pubblicato dal suo mister di box Che lo voleva prendere in giro per questa cosa probabilmente Ma lui ha sforato e realizzato delle storie staggandolo Incazzandosi e minacciandolo pesantemente Non aggiungo altro, vi lascio i filmati Noi ci vediamo un prossimo video, linea allo studio Ah raga io non lo so, io rosico, io rosico Mi fanno il video, lo mettono su TikTok col giacchetto nell'autogrill Ma che è una presa per culo, non ho capito Manuel, Manuel Mazzocchi è il mio maestro Ma le prese per culo mi mandano fuori raga Io io lo dico, io lo dico, lo taggo pure qua Più le cose strane, mi sto comporta bene, no, niente